Chiaramente fare gli infermieri, quindi fare un mestiere che sia quello dell'operatore sanitario a stretto legame con persone che hanno bisogno, quindi che hanno necessità di essere assistite, è necessario che ci sia la vaccinazione da parte del personale. Quindi noi chiediamo ai colleghi di valutare anche dal punto di vista scientifico e dei dati la validità di questo vaccino. 11 infermieri sospesi dall'albo professionale, quindi dalla propria attività perché non ancora vaccinati, continuano così in provincia di Arezzo a scattare i provvedimenti dopo quelli già presi dalla ASLA. La decisione è arrivata al termine del Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo, che si è riunito all'unanimità dopo la comunicazione ricevuta da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria. I colleghi chiaramente sospensi avranno una sospensione temporanea fino al 31-12, così come viene scritto sulla legge e pertanto non potranno né lavorare presso attività primaria, che è quella del datore di lavoro, quindi struttura pubblica o privata, e neanche in proprio, quindi gli professionisti non possono fare attività professionale legata al mondo infermieristico. La sospensione avrà durata sino all'assolvimento dell'obbligo. Potranno vaccinarsi o presentare un certificato di esenzione al vaccino così come normato da legge. Adesso la preoccupazione dell'Ordine è per la qualità dei servizi. Le sospensioni sono giuste e doverose perché la legge ce lo chiede, ma è anche vero che i servizi vanno mantenuti e vanno mantenuti in maniera adeguata e soprattutto con la giusta qualità che ad oggi queste sospensioni garantivano. Quindi chiediamo anche che l'azienda possa in qualche modo reintegrare questo personale attraverso anche l'ultima gradatoria estera attiva. Quindi ci sono 2200 colleghi che sono idonei a questa gradatoria e che possono chiaramente essere integrati in questo sistema.